Buongiorno, sono Alessia e sono qui oggi perché abbiamo presentato il nostro progetto che si chiama Replace Belt, il cui obiettivo era la realizzazione di un tappeto di un nostro trasportatore interamente in plastica riciclata. Abbiamo approfittato del workshop di Ravenna I risultati che ci attendiamo, i benefici ambientali che ci attendiamo dal progetto Replace Belt finanziato dall'Unione Europea è quello di promuovere il riciclaggio della plastica e possibilmente estendere l'utilizzo della plastica riciclata in altre applicazioni che richiedono resistenza elevata e strette tolleranze. Grazie a tutti!